Attesa, quanta attesa. La settimana decisiva per la composizione delle liste in vista delle elezioni regionali di novembre continua a tener tutti col fiato sospeso. Come è accaduto con le vicende del centro-sinistra e la candidatura condivisa all'interno del Partito Democratico, sul fronte opposto è addirittura d'arrivo la scelta di quel nome di garanzia che metta d'accordo tutto il centro-destra. Ma c'è un però, stanchi di attendere, nella serata di lunedì i partiti e i movimenti di Primavera Lucana, Riscatto Lucano e i movimenti a loro sostegno hanno reso nota la propria posizione. Si va avanti da soli, senza il Popolo delle Libertà e sotto la denominazione del Comitato di Liberazione Regionale. In cosa consiste? Alla base di questa separazione non sappiamo quanto definitiva è stata evidenziata la mancanza nel PDL di un'ampia programmazione, al rispetto del codice etico, ancora prima che della scelta dei nomi. La conferma di quanto detto è giunta a poche ore orsono, con il colpo gobbo a vuoto tentato dal dirigente regionale PD e Lino Cosimo Latronico, il quale aveva provato a sottrarre Marcello Pittella ai doveri del PD. Un atto forse estremo di trovare il candidato ideale, soprattutto a discapito delle altre forze che gravitano nel centro-destra. E allora, tra contatti e riunioni informali, Fratelli d'Italia, Grande Sud, Prima l'Italia, Laboratorio di Centro, Io amo l'Italia e le varie associazioni hanno optato per l'allontanamento. In più, notizia di oggi, il nome nuovo, dopo quello di Gianni Rosa, Marco Saraceno e Michele Cannizzaro, è quello di Michele Finizio, 52enne direttore del sito di informazione Basilicata24. Bisognerà seguire attentamente le mosse degli altri. Il PDL? In caldo c'è lo stesso parlamentare latronico, ma anche l'ex Taddei. E cosa ne è stato di scelta civica? Sparita la bolla di sapone dell'avvicinamento di Domenico Bronzino al PD, è stata avanzata la candidatura a governatore di Ernesto Navazio. Ma attenzione, sembrerebbe spuntare l'ipotesi Tito Di Maggio, distanza a Roma e chissà quanto propenso a tornare in Basilicata. Qualcuno parla di fantapolitica sulla scia sportiva del calciomercato. Se gli italiani seguono sempre meno le vicende del pallone, chissà che sia tutto a vantaggio della politica, confusionaria sì, ma davvero avvincente.